Ciao a tutti, oggi è sabato 15 luglio 2023. Sono qui con Dario, ve lo faccio vedere qua, è qui con me, è venuto a darmi una mano. Abbiamo già rotto le celle nei nuclei, abbiamo fatto i nuclei, due le ha portate lui, tre le ho fatti io più lo start, le abbiamo aperte, controllate, rotte tutte le celle. Adesso siamo al quattordicesimo giorno dopo aver messo la regina madre nel cerchietto e siamo al decimo giorno dopo aver messo il cerchietto nello start. Adesso apriamo lo start, ci diamo un'occhiata, vediamo se ci sono delle celle, le spacchiamo, prendiamo il cerchietto, io Dario le tagliamo e poi le inseriamo, prendiamo un telaino dentro i nuclei, lo tagliamo anche quello in mezzo a triangolo e per inserire la cella. Dai Dario, diamoci da fare. Adesso apriamo questo. Il foglio non ci serve più, lo mettiamo qua che se ci serve, ce l'abbiamo. Allora adesso apriamo lo start. Questo qui è lo start, avete visto il video, l'avevamo fatto, poi l'avevamo modificato, l'avevamo fatto con quattro telaini di covata all'inizio, poi dopo l'avevamo fatto, l'avevamo fatto il video e poi l'avevamo modificato perché avevamo usato la covata che non era perfetta. Ho messo dei cerri qua perché la famiglia era, lo start era molto forte, continuano a portare a casa del miele e sta costruendo, vedete i cerri. Non l'ho nutrito perché c'era un sacco di importazione di erba medica. Guardate come stanno costruendo anche se orfano. Allora, adesso, guardate, stanno già mettendo del miele. Allora, adesso lo apriamo. Allora, questo qua è il diaframma, quello che chiude ermeticamente perché si poteva utilizzare, come abbiamo già detto diverse volte, un cassettino da 6. Noi abbiamo usato l'alnia da 10 perché avevamo quella. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a controllare che non ci siano celle. Le guardiamo in due. Questo qua è un telaino di scorta. Qui c'è scorta e miele. Tardario da cinocchio ma non c'è mica niente. Le guardiamo in due perché se ci scappa una cella è finita. Allora, questo invece. Ok. Questo qua è miele, anche questo. La covata è tutta nata. Qua ci sono le celle. Allora, le celle sono 2, 4, 6. Anche se sono piccole non vuol dire perché ci inganna la forma del telaino. Le celle sono... Le larve erano esattamente nel momento giusto perché sono state messe nel cerchietto. È stata fatta covare la regina per tre giorni. Al quarto giorno è stato tolto il cerchietto. Le celle, le larve erano nel momento ideale per essere allevate. E si vede la puntina delle celle che sono ormai quasi pronte. Adesso io e Dario lo mettiamo da parte. Questo, vai avanti, daici un occhio. Questo lo appoggiamo un attimo qua. Lo mettiamo magari qua che è un po' più stabile. Così. All'ombra che non prenda solo le celle. Adesso guardiamo gli altri. C'è una, c'è la famiglia con me? Due, una dietro. Allora, adesso questa non la spacchiamo perché abbiamo le celle giuste. Allora magari ne teniamo una perché queste qua sono tutte, sono due i telaini presi da famiglie valide. Quindi abbiamo, questo qui, questa, in particolare era il telaino con la covata fresca che è stato messo vicino al cerchietto. Non so se vi ricordate. Quindi lo teniamo. E adesso vediamo a tagliare le celle perché se andiamo a danneggiare una cella, visto che abbiamo i nuclei giusti e si rischia di magari avere un nucleo senza una cella. Quindi lo teniamo un attimo lì. Se poi il taglio va bene e non facciamo danni, la spacchiamo. Adesso guardiamo le altre. Perché le regine ne ho tre o quattro dove ho preso e sono tutte, sono queste qua. Sono queste qua. Ho preso covata da questa, questa era la madre, ho preso covata anche da questa e da quella. Questa qua, anche queste qua, tre amelari, è un'ottima regina. Sono tutte sorelle, tra virgolette, perché sono state fatte dalla stessa madre, le ho fatte tutte io negli anni. Quindi sono una regina che io reputo di qualità, non mi hanno dato i problemi, mi ne hanno fatto. Quindi c'è delle celle, Dario? C'è niente? Scorte, bassi. Cosa scorte? Boh, qua non c'è niente neanche qua. Allora, adesso andiamo al taglio. Dario, prendi un telaino da quel nucleo là, ci scolli via le api e adesso Dario prende il telaino dal nucleo. Prende un telaino dal nucleo. Adesso io questo qua ci scollo via le api, il più possibile. Uno qua, anche se non c'è covato, va bene. Cioè, prendi più, scaccio. Allora, adesso qui abbiamo preparato, qui vicino abbiamo preparato il leggio. Allora, adesso c'è la maschera, la spostiamo che non ci serve. Adesso ci piazziamo. Piazziamo il telaino nel leggio con calma. È un leggio che ho fatto io quando facevo il traslarvo, con dei profili del cartongesso. Molto semplice, funzionale, si incastra il telaino. Ci mettiamo comodi. Allora, adesso abbiamo un tagliarino col manico perché scotta. E coricalo qua, Dario, ci hanno delle api dietro. Quello lì c'ha già un buco, perfetto. Forse facciamo senza tagliarlo. Questo qua probabilmente è un telaino che ho usato per i nuclei l'anno scorso, perché vedete che c'è già un buco che coincide esattamente dove va la cella. Comunque, in alternativa, bisogna scaldare e fare questo, e fare, diciamo, uno ricava un incavo. Adesso accendiamo questo, accendiamo il cannello. E scaldiamo bene la lama del tagliarino. che diventi bella nera, vedete? Si sta proprio prendendo, si sta temprando. Una volta che è bella calda, andiamo. Spero che si riesca a vedere. Si sta sciogliendo la cera, si sente proprio... Andiamo a tagliare con calma. Stiamo lontano dalla cella, chiaramente. Ci passiamo di fianco bene. Dario, prendila, per favore. Adesso Dario, con le sue mani gentilissime, mani di fata, chiamato anche. Ok. Lo andiamo a inserire esattamente nel foro, nel buco, senza schiacciare tanto, tanto per non rovinare la cella. Basta solamente, con calma, senza rovinare la cella. E questo è il lavoro finale da chirurghi. Adesso prendiamo questo. Andiamo giù, andiamo nel nostro... Prendi il fumo, Dario. Là, adesso, senza cadere, magari. La cella è bella fissa. Apriamo il nostro bellissimo nucleo, che è stato fatto una settimana fa. Qua abbiamo rotto le celle prima, come dicevamo, tutte le celle. È stato fatto con due telaini di covato percolata e uno di scorta. Cavamelo via. Se avete paura di far toccare la cella, potete fare così. Lo sistemate, lo inserite. Magari lo tenete leggermente di traverso, come l'ho messo io. Anche se è un po' rialzato, e poi l'altro lo mettete un po' così. Se poi ci rimane appena di spazio, adesso qua è andato giù, ma la cella... Adesso ci diamo un'occhiata per scrupolo, ma non si dovrebbe essere mossa. Si vede là in fondo la cella, è ancora integra. Così, così. Poi ci mettiamo un cerro che lo metto per scrupolo per tenere sempre l'arnia su 6 e il diaframma. Adesso chiudiamo. Chiudiamo il tutto. E tra 15 giorni facciamo un giro. Vediamo un po' se c'è la vergine, se già feconda. Perché adesso nasce nell'arco di due giorni e nasce la regina. Nasce la vergine. Se nasce, si fa tutto bene, si feconda. e poi troveremo la covatta magari tra 15-20 giorni. Prima che la covatta venga percolata facciamo un apibioxal gocciolato che tutte le altre famiglie sono state bloccate, è stata ingabbiata la regina, è stato fatto il blocco di covatta che trovate nel video sul canale. E in modo che così questa qui viene trattata magari quando facciamo il trattamento prendiamo la regina, la mettiamo in una gabbietta e facciamo il trattamento e poi la molliamo che è meglio. Così siamo sicuri che venga pulita perché non ci sarà covata e la nuova covata se tutto va bene non sarà percolata. Quindi dopo il nucleo va avanti da solo. Poi chiaramente c'è la sala da rinforzare perché siamo siamo lullo siamo avanti però io di solito non tengo i nuclei dopo li metto nelle famiglie poi in una famiglia dove devo cambiare la regina magari pian piano lo travaso qui o prendo questo e lo travaso in un'altra famiglia dipende un po' ci sono diverse tecniche in base al tempo che ho eccetera e comunque ricapitolando facciamo un riepilogo generale di tutto un secondo siamo partiti 14 giorni fa siamo partiti 20 giorni fa 3 settimane fa abbiamo fatto lo start e dopo una settimana io ho preso il cerchietto ho preso la regina madre l'ho racchiusa in questo cerchietto tra due telaini vecchi ho lasciato covare la regina 4 giorni poi ho preso ho preso ho tolto il cerchietto lasciato la regina madre in quella famiglia ho preso la covata cerchietto e messo nello start dopo 5 giorni sono andato lì ho controllato ho spaccato tutte le celle che c'erano in eccedenza perché in cima al cerchietto ho inserito un telaino di covata di covata aperta e dopo oggi dopo 10 giorni dopo aver messo il cerchietto nello starter la covata cerchietto nello starter o dopo 14 giorni dopo aver messo la regina madre dentro il cerchietto con Dario abbiamo tagliato le celle come aveste visto ho messo nei nuclei e i nuclei sono apposti i nuclei li avevo fatti una settimana fa che trovate tutti i video sul canale e tutto e dopo tra 15 giorni faremo il trattamento come ho detto per pulire della varroa e questo è come io e Dario facciamo i nuclei li facciamo con questa tecnica funziona bene e ti garantisce di aver prelevato le larve all'età giusta abbiamo utilizzato uno starter forte per fare le celle quindi le regine sono state allevate al meglio e di solito vengono delle regine di qualità se si fecondano bene tutto va bene non ci sono problemi quindi se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di Telegram dove trovate me Dario Stefano Daniele e tanti altri apicoltori molto in gamba che vi possono aiutare possono dare consigli qualsiasi cosa sia sui trattamenti sull'alleamento regine sulla gestione dell'appiario un po' a 360 gradi per tutto quello che riguarda l'apicoltura io e Dario vi salutiamo Dario saluta le tue fan ciao a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti